Il terzo anno è diventato la sensibilizzazione, la colnazione e sensibilizzazione. L'alternanza in senso operativo del termine inizia dal quarto anno e si concorda dal quinto anno. Negli istituti tecnici e professionali il mondiale è di 400. Noi abbiamo inteso realizzare 200 ore per il quarto anno, con il livello del maestro e i soggetti afferenti all'associazione e 40 ore presso il comune di Cerniola. L'obbiettivo è di acquisire competenze, quindi non soltanto conoscenze e attività, che come noi dicevamo, conoscenze e attività consente a nostri ragazzi di acquisire competenze. competenze è un'intelligenza con risposta per l'alternanza scolastico, ma nei dettagli. Grazie. A questo stessa papà, per il vostro senso. Ha un aspetto nozionistico che cerchiamo di dare in classe. Dobbiamo cercare di raggiungere tra le prime finalità del progetto e quella che vogliono offrire i nostri studenti stagisti un preciso valore di riferimento per la reazione del saper fare e del saper essere attraverso l'acquisizione di una capacità pratica che valorizzi le specifiche di cui guida la crescita culturale ed economica del nostro territorio perché se diamo la possibilità di...